Chiusa la votazione. Nella sala consigliare di Palazzo Santini, gli alunni delle classi quarta e quinta della primaria di Sorbano del Vescovo hanno messo in scena una rappresentazione teatrale ispirata ad una seduta del Consiglio Comunale. Si tratta dell'atto conclusivo del progetto Il Teatro Porta Consiglio, ideato per insegnare ai bambini il funzionamento dell'Assemblea Cittadina. Il Teatro Porta Consiglio è un progetto che ho ideato, curato e promosso a partire da gennaio di quest'anno. Rientra all'interno delle attività che sto portando avanti per far conoscere ai cittadini l'importanza dell'attività democratica che si svolge all'interno del Consiglio Comunale. In particolare 35 bambini delle scuole alimentari di Sorbano del Vescovo hanno analizzato nei mesi scorsi, nei mesi precedenti, l'attività che si svolge all'interno del Consiglio Comunale, le regole democratiche che sovrintendono il funzionamento del Consiglio Comunale per poi mettere in scena una seduta tipo del Consiglio Comunale. I bambini divisi in due partiti, canisti e gattisti, hanno discusso e votato tre provvedimenti da loro stessi ideati. Il primo era il progetto Sportibus, un servizio di trasporto pubblico per accompagnare i ragazzi presso gli impianti nei quali svolgono la pratica sportiva, che è stato approvato. Respinto invece il progetto Scuola e Lavoro, finalizzato a creare opportunità di lavoro nei mesi estivi per gli studenti delle scuole superiori. Infine era in discussione l'intitolazione della scuola di Sorbano del Vescovo, attualmente senza nome. Quest'ultimo ordine del giorno ha riscosso pari voti favorevoli e contrari, per cui i piccoli consiglieri hanno consegnato la proposta di delibera al Consiglio dei Grandi per prendere una decisione definitiva. e soprattutto, insomma, di misi...